Qualcosina riconquista il pallone Lele Catania che si invola a contresposito, ancora Lele Catania, vertice alto dell'area di rigore, Lele Catania ancora, il mancino! Siracusa in vantaggio, dopo 30 secondi si sblocca subito il derby al De Simone, lo segna Lele Catania, il gol dell'1-0. Non esulta sempre per rispetto del suo popolo, ma dopo 30 secondi doccia freddissima per il Catania con il Siracusa che sblocca la partita. La sesta rete in questo campionato di Lele Catania aveva già segnato all'andata il gol del momentaneo 1-1, qui si è imbolato, ha riconquistato palla dopo il pasticcio difensivo della Catania. Molto simile al gol dell'andata, quello di Lele Catania, con un diagonale, mancino a battere i pisseri e quindi cambia subito dopo 30 secondi il risultato in questa 21esima giornata.